L'Aquila si ferma questa sera con una fiaccolata alla villa comunale per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sugli episodi sempre più frequenti di violenza nei confronti degli operatori sanitari. Solo qualche giorno fa una psichiatra, Barbara Capovani, è stata uccisa da un ex paziente, ma non è l'unico fatto di questo tipo. L'obiettivo dell'iniziativa, che si svolge in contemporanea in diverse città italiane e anche a Pisa, dove la dottoressa è stata uccisa, è chiedere maggiori tutele per i lavoratori del settore sanitario. Bisogna fare di più affinché fatti del genere non accadano mai più. Noi questa sera saremo all'Aquila, come in altre 50 città italiane, solo per commemorare la perdita di questa collega, per cui di una donna, di una psichiatra, e questo è il nostro obiettivo odierno. Sicuramente bisognerà, secondo me, almeno lavorare molto, soprattutto sulla cosiddetta psichiatria forense, ovvero la psichiatria che riguarda le persone affette da disturbi mentali e autrici di reato, e distinguere queste persone rispetto alle cosiddette personalità psicopatiche, che dovranno essere sicuramente trattate e dovranno essere accolte, forse in strutture diverse, forse anche nelle cosiddetti reparti di medicina, nell'ambito delle carceri normali, fra virgolette. Per oggi non è questo il tema, onestamente. Oggi è una giornata di silenzio, di commemorazione, di pietas, perché appunto è scomparsa una professionista, è scomparsa un operatore della sanità. Ci sono tantissimi atti di violenza che avvengono contro gli operatori sanitari e questo oggi è il nostro primo obiettivo. Una manifestazione che è sostenuta dalla Società Italiana di Psichiatria, con la sezione abruzzese molisana della Società Italiana di Psichiatria, Sipsam, dal Dipartimento di Salute Mentale della Asla 1, hanno aderito tanti ordini professionali e non sono. Una manifestazione a politica, senza colori, gli operatori sanitari scendono in piazza con le divise che indossano quotidianamente, con fascia nera al braccio, in segno di lutto.